Vi comprate le automobili tedesche, le pagate più di tutte le altre, ci fate 10 anni di finanziamento e poi le vendete a 100.000 km. Questa è un'automobile tedesca utilizzata come andrebbe utilizzata una tedesca. Audi A4 Allroad, anno 2016, 375.000 km. Andiamo a vedere se è ancora buona o se è da buttare. Si sa, quando si parla di automobili, ragazzi, la soglia dei 100.000 km è sempre una soglia che psicologicamente ci fa pensare a cambiare la nostra auto. Ci fa pensare a dire, beh, forse è sufficientemente vecchia per essere rottamata, per essere riciclata, ma soprattutto per essere cambiata con un'altra automobile. Ma se io vi dicessi, in questo caso parlando di vetture premium, perché questa è un'automobile premium, che questa Audi A4 Allroad ha all'attivo 375.000 km percorsi dal 2016 fino ad oggi, da fine 2016 fino ad oggi. Cosa pensereste di quest'auto? È un'auto da cambiare o un'auto che può farne altrettanti? Perché vi porto quest'automobile sul canale? Grazie, perché alcuni di voi sapranno sicuramente, i più fedeli, i primissimi sul canale sapranno già che questa è un'automobile che avete già visto. Questa è un'auto del mio amico Michael, tra l'altro lui la usa ovviamente per lavorare, è un'auto che è stata acquistata effettivamente per l'utilizzo che poi ne è stato fatto. Tutti i loghi che vedete sono della sua attività lavorativa. L'avete già vista perché ve l'ho portata dopo circa un anno e mezzo di vita, un anno e quattro mesi di vita, quando era appena stata immatricolata, nel 2017, perché già dopo un anno e appunto qualche mese di vita aveva percorso già oltre 100.000 km. Tra l'altro quel video è stato un video molto interessante, ma mi è stato abbattuto da YouTube per un titolo non troppo politically correct, ecco, quindi sul canale non lo trovate più. Sono estremamente contento di riportarvela perché questa ad oggi, con il fatto che sono passati alcuni anni, è ancora un'ottima automobile da valutare per un potenziale acquisto perché ha fondamentalmente tutto. È un'automobile premium, quindi è un'automobile bella da vedere e costruita in maniera solida. Essendo un'automobile del 2016 è ancora ovviamente un'automobile attualissima a livello di piattaforma costruttiva, a livello di tecnologia, a livello di motorizzazioni. Questo è il diesel da 190 CV, 4 cilindri. Offre una trazione di tutto rispetto, la vera trazione 4 di Audi, che adesso andremo a vedere nel dettaglio, quindi sicurezza e anche a livello tecnologico di sistemi di bordo, di qualità costruttiva, anche negli interni è un'auto ancora rispettabilissima. Le quotazioni, parlandovi di usato, si aggirano dai 10 ai 20 mila euro per automobili molto chilometrate. Calcolate che la più economica che trovate sull'autoscato, giusto per citarne uno, ha 100.000 km in meno di questa, quindi circa 270.000 km e ha un prezzo di circa 11.500 euro. Le trovate dai 20 ai 30.000 con un chilometraggio medio, comunque superiore ai 100.000 km. Per avere automobili con meno di 100.000 km dovete andare oltre i 30.000 euro, che comunque ancora ad oggi ritengo sia un valore valido per l'automobile che è, perché è comunque circa la metà del prezzo d'acquisto del nuovo. Vi portate a casa un'automobile ancora estremamente moderna, con tanta tecnologia, sicura e che non vi farà sfigurare a livello visivo. Parlandovi ragazzi dell'acquisto di un'automobile usata, so perfettamente che molti di voi sono frenati nell'acquisto di un'automobile premium, come potrebbe essere questa Quattro Allroad, perché chiaramente i costi di mantenimento e i costi d'acquisto di ricambi usati in caso di rottura restano comunque quelli di un'automobile premium, quindi tendenzialmente elevati. Ed ecco perché voglio introdurre in questo video un portale che vi potrà essere molto utile quando si tratta di ricambi, anche di automobili premium come in questo caso. E sto parlandovi di Ovoco, questo video è fatto in collaborazione con Ovoco. Stiamo parlando di un e-commerce che si occupa di fornirvi componentistica usata di qualsiasi tipo di automobile. Provate ad andare sul sito d'Ovoco, mettete la marca dell'automobile, il modello e il pezzo di ricambio che vi serve, e vi garantisco che ce ne sono davvero tanti perché si sta parlando di un e-commerce con oltre 18 milioni di pezzi di ricambio usati a dei prezzi secondo me estremamente vantaggiosi. Tre sono secondo me i vantaggi principali dei quali riuscirete ad usufruire acquistando su Ovoco. Il primo, il fatto che riuscirete a battere clamorosamente i costi di mantenimento in caso di guasto o in caso di riparazione di un'automobile premium. Vi faccio un esempio, paraurti frontali, paraurti posteriori, casse dell'impianto audio, pomelli del cambio, pompe gasolio, pompe acqua, c'è davvero di tutto, fateci un giro. Il secondo vantaggio è quello di riuscire a trovare componentistica anche non recentissima, quindi se avete un'automobile anche di qualche anno fa riuscirete a trovare dei componenti e potrete così mantenere in salute l'automobile anche se non è più nuovissima. Il terzo vantaggio è ad attribuire all'eco sostenibilità dell'acquisto perché produrre un pezzo nuovo ha un impatto a livello di sostenibilità maggiore piuttosto che andare a riutilizzare un pezzo usato che è ancora al 100% o ad una percentuale molto alta di affidabilità e funzionalità. Proprio per questo Voco offre 14 giorni di tempo perché potete provare il pezzo se funziona bene. Se non è di vostro gradimento, se non è come ve l'aspettavate potrete appunto fare il reso del pezzo e potrete essere rimborsati o vi potrà essere inviato un altro pezzo di ricambio da utilizzare. Vi lascio ovviamente tutti i link qui sotto in descrizione sotto il video. Dateci un'occhiata ragazzi perché è un sito che può esservi utile nel 100% dei casi ma vi può essere utile magari se avete un'automobile con dei pezzi di ricambio. Da sostituire se avete un'automobile, una Young Timer ma anche se avete una classica troverete davvero di tutto. Dateci un'occhiata e adesso torniamo alla nostra carissima Audi A4 Allroad che tra l'altro ha spaccato il turbo che è stato sostituito. Andiamo a parlarne. Ma visto ragazzi che abbiamo parlato dei pezzi di ricambio di un'automobile premium vediamo in 375.000 km che problematica ha avuto questa fantastica Audi A4 Allroad. Quali flagelli l'hanno devastata? In realtà è stata un'automobile estremamente fortunata perché l'unico grosso flagello che se di flagello vogliamo parlare è stata la rottura della turbina a 360.000 km. Poi per il resto vi dico che non ha avuto particolari problemi. In abitacolo ho presente un'avaria dell'impianto frenante al posteriore. Probabilmente è un bug di sistema che va azzerato via centralina. È un'automobile che a livello di carrozzeria si è mantenuta abbastanza bene. Chiaramente dopo 375.000 km ci sono diversi segni di utilizzo, qualche botta, qualche rottura. Qui sulla parte posteriore, nella portiera posteriore, c'è anche qualche piccolo puntino di ruggine. Davvero molto molto limitato ma dovuto al fatto che è davvero un'automobile utilizzata per lavorare pesantemente in maniera parecchio brutale. Parlando con il proprietario dell'automobile mi è stato detto che ovviamente ha fatto almeno una volta la distribuzione e adesso la dovrà rifare. Ed ha fatto fino ad oggi un tagliando ogni circa 20-25.000 km quindi anche abbastanza altino ma per ora di grossi problemi fortunatamente non ne ha mai avuti. Ragazzi questa è sicuramente una delle Audi. Non dico una delle più affidabili ma questi anni sono stati gli ultimi anni con una affidabilità molto elevata proprio perché l'elettronica non era presente in grandi quantità sulle automobili. Il 2016 è comunque l'altro ieri. Da questa serie in poi la situazione si è un po' più complicata perché è arrivata molta più elettronica sulle automobili. Andiamo a dare un'occhiata anche a livello di interni se questa è un'automobile ancora presentabile o meno. Fatemi sapere ragazzi se questa è una serie di vostro gradimento. Fatemi sapere se volete altre automobili usate. Se questa serie vi può interessare lasciate un like qui sotto ed iscrivetevi ovviamente al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie mille a tutti. Per quello che riguarda gli interni ragazzi ovviamente i chilometri sono stati fatti. Qui è tutta una superficie lucida anche le pelli si sono lucidate parecchio però vi devo dire che tutto sommato l'auto è ancora dignitosa. Trovo un po' di usura sulle guarnizioni delle portiere che si stanno pian pianino sfarinando. Il volante incredibilmente dopo quasi 400.000 km è ancora in formissima. È ancora ben rifinito e non si è degradato particolarmente come non si sono degradati particolarmente i sedili. Questa già ai tempi era un'automobile che faceva sudare parecchio perché ha i sedili tutti in pelle. Se la trovate con l'alcantara negli interni, alcantara vi parlo di tessuto tecnico, compratela con il tessuto negli interni piuttosto che la pelle. Perché questa faceva sudare prima e fa sudare ancora di più oggi. L'avvolgitore della cintura del guidatore ormai se n'è andato a quel paese e ce la troviamo così un po' ballerina. Devo dire che tutti i bottoni si sono conservati perfettamente, si sono conservati benissimo anche a livello proprio del feedback che hanno e anche sulle grafiche presenti sul bottone. Nulla si è degradato e i tasti, neanche un tasto è diventato appiccicoso, cosa che caratterizzava i modelli premium di qualche anno fa. Audi Virtual Cockpit frontale e schermo dell'MMI in questo caso sono stati portati con una pellicola che negli anni si è rigata ma sono ancora in formissima. E a livello di tecnologia è una tecnologia super moderna, tant'è vero che una delle critiche più moderne che vengono mosse ad Audi è il fatto che sì, sono stati innovatori negli interni un decennio fa, ma le automobili ancora ad oggi non differiscono troppo da questa Audi A4, vi ripeto il 2016 è ieri e se andate ad acquistare questa automobile nuova all'interno è ancora bene o male quello, non è cambiato. Questo è il gran vantaggio di quest'auto che se comprata usata rimane comunque un'automobile moderna. Gli interni danno senso di solidità, ovviamente qualche scricchioli dopo questo chilometraggio c'è, ma vi dico che sono scricchioli tutto sommato dignitosi. In caso di avvallamenti più profondi provengono dei rumori, soprattutto parlandovi delle sospensioni anteriori, ma è una caratteristica che contraddistingue alcuni modelli del gruppo Volkswagen ormai da anni, vi parlo principalmente di Audi A3, Audi A4, Golf 6 e Golf 7. Quando si parla di alti chilometraggi, tutto sommato l'esperienza d'utilizzo è ancora ottima, il motore anche a livello di sonorità sembra ancora un motore nuovo, è ancora estremamente silenzioso e non ci sono vibrazioni, ragazzi, quest'Audio A4 Allroad si è conservata davvero davvero bene. Andiamo a dare un'occhiata al motore. Dario, anche io vorrei acquistare un'Audio A4 Allroad usata, quale motorizzazione prendo? Lasciamo da parte un attimo i benzina, questa secondo me è un'automobile che va acquistata diesel, come è stata acquistata diesel in questo caso e vedete cosa è successo, quanti chilometri ha fatto. Questa è la motorizzazione da acquistare, sicuramente 2.000, 4 cilindri, turbo diesel, da 190 cavalli e 400 Nm di coppia. Ragazzi, a listino era presente anche il 163 cavalli, ma potrebbe essere un motore un po' sottodimensionato per quello che è quest'automobile, da 1.700 circa chili di peso e secco e con una trazione integrale permanente, quindi deve muovere anche una trazione integrale permanente. Questo è il 190 cavalli, secondo me è quello giusto, lascerei perdere anche, ahimè, i V6 3000 diesel, li vedo più adatti per un Audi A6 Allroad, trovate anche la prova sul canale della A6, gran bomba. Il compromesso perfetto nell'utilizzo potrebbe essere questo motore, a livello di costi di mantenimento, stiamo parlando di un'automobile che in Lombardia paga un bollo prezzo pieno che va di poco oltre i 400 euro, siamo intorno a 350 euro con addebito bancario. Per quello che riguarda i tagliandi, quindi costi di mantenimento ordinario dell'automobile, non lo straordinario, per quello trovate ovoco, si parla di tagliandi fatti dal vostro meccanico e non su rete ufficiale Audi, di circa 250, 300, 350 euro tagliando, quindi tutto sommato dei prezzi, secondo me, sostenibili per quello che è il prezzo d'acquisto dell'usato dell'automobile. Fateci una ragionata. Purtroppo ragazzi non sono stato sufficientemente lesto nell'apertura del canale per farvi vedere l'automobile che il mio amico Michael ha utilizzato prima di questa. Era un Audi A6 dotata del 6 cilindri diesel che è arrivata a quota, con qualche piccolo problemino ma ce l'ha fatta, è arrivata a quota 890.000 km e dopodiché ovviamente è deceduta dignitosamente. Dopo 375.000 km, benché possa ritenersi un'automobile semplicemente a fine rodaggio per essere un Audi, per essere una tedesca, per essere un'auto iconicamente resistente alle intemperie e alle problematiche, sicuramente se fosse la mia automobile farei farei fare una bella revisione a molle ammortizzatori e componenti sospensivi perché i rumori che arrivano dalla parte anteriore prendendo avvallamenti più secchi si fanno sentire un po' disturbano, nonostante in mezzo alle curve su strada dritta lineare è un'automobile che viaggia ancora come nuova. Farei sicuramente fare una bella revisione al cambio che potrebbe essere una delle potenziali problematiche che potrebbe avere quest'automobile con questi chilometraggi perché secondo me facendo manovra da fermo l'efficacia delle frizioni di questo cambio a sette rapporti, questo doppia frizione a sette rapporti, secondo me è andato un po' a perdersi, farei sicuramente fare, altra problematica che affligge queste automobili con questi chilometraggi, una bella revisione alla trazione, ai differenziali. Muovendo l'automobile da ferma si sente secondo me che anche i differenziali hanno dato gran parte di quello che dovevano dare. Fatte queste tre operazioni secondo me potrebbe ritenersi davvero un'automobile quasi nuova. Si tratta di revisione, si tratta di controlli di routine. È giusto farli, non è giusto farli perché l'automobile ha già tanti chilometri? Il proprietario potrebbe sempre decidere di non farli cambiando la vettura, ma la domanda è ad oggi quanto è necessario spendere per avere un'automobile che vi offra di lavorare, di marciare, di fare questo chilometraggio con questo comfort di marcia, con questa qualità costruttiva e in grado di resistere così tanto nel tempo? Questa è una delle domande che si fanno tanti italiani ad oggi che stanno portando le proprie automobili a 300, 400, 500, 600 mila chilometri portandole fino davvero alla distruzione e alla morte perché il nuovo costa molto caro. Quindi tanti non se lo possono permettere, tanti se lo possono permettere ma non hanno voglia di spendere quei soldi e quindi portano queste automobili fino alla morte e io giungo e ci può stare. Dovendo acquistare quest'auto, per chi deciderà di acquistarla magari con un chilometraggio più umano e parlando ovviamente di un'automobile usata nella famosa fascia che vi ho detto prima, dai 25 ai 35 mila euro trovate tante occasioni di queste automobili sensate anche per essere acquistate per un uso privato se avete bambini, se avete animali, se avete parenti da spostare, è un'automobile che come vi ho detto è perfetta. Dovendola acquistare vi faccio qualche confronto con automobili che ho provato, sicuramente rispetto a un Audi A6 questa è un'automobile secondo me a livello sospensivo se non sbagliate l'assetto dell'Audi A6 che si avvicina molto e con sbagliate l'assetto vi dico se prendete un Audi A6 con pacchetto S-Line con cerchi da 20 pollici è sicuramente più scomoda di questa perché questa rimane come sempre, come sempre è stata l'Audi A4 Allroad, un'automobile molto comoda non è comoda ovviamente quanto un A6 Allroad. Ragazzi, come ben sapete, se avete visto il video, ad oggi dovendo acquistare un Audi probabilmente l'unico modello che potrebbe essere di mio interesse potrebbe essere l'A6 Allroad ovviamente con il 6 cilindri diesel. Certo che l'A6 è un'automobile più insonorizzata, è un'automobile più imbottita a livello di sedili è un'automobile con più tecnologia, ha le sospensioni pneumatiche è tutta un'altra l'automobile, se volete il comfort massimo dovete stare su A6 Allroad questa si difende molto molto bene, ma non è un Audi A6 e per fare un altro paio di paragoni vi dico che questa è un'automobile che si guida meglio di classe C e di classe E forse non è comoda quanto classe C e classe E, ma si guida meglio di classe C e classe E si avvicina secondo me al mondo classe C proprio perché è rialzata da terra ed è molto morbida vi parlo di questa confrontandola con una BMW siamo molto distanti dal prodotto serie 5 serie 5 soprattutto magari Touring che ha le sospensioni pneumatiche al posteriore che si eleva all'apice secondo me in quella categoria in merito alla comodità e al silenzio si avvicina un po' a quello che è il prodotto serie 3 anche se appunto la serie 3 negli ultimi anni è diventata davvero combattiva perché ha elevato molto la propria comodità, ha elevato molto il proprio comfort di marcia la propria qualità negli interni quindi potrebbe essere una bella lotta certo che la forza di una all road è il fatto che è la station wagon più SUV che potete comprare e allo stesso tempo è il SUV più station wagon che potete comprare oh mio dio Dario hai appena chiamato SUV una station wagon si ragazzi ho appena chiamato SUV questa station wagon perché ad oggi ormai si etichetta con la nomea di SUV qualsiasi cosa ci sono SUV che come questa automobile non hanno particolari angoli di attacco di dosso d'uscita che sicuramente non sono la forza delle Audi all road ci sono SUV che a differenza di questa all road non hanno una trazione integrale né ben fatta né fatta male perché la maggior parte dei SUV che comprate sono a trazione anteriore questa ha almeno una trazione integrale una trazione integrale con le palle una trazione integrale ben fatta perché qui sotto c'è la vera trazione 4 di Audi non c'è la trazione 4 ultra che vi disattiva la sale posteriore e vi tiene attivo solo l'anteriore e poi in caso di bisogno vi attiva il posteriore qui c'è l'integrale permanente con differenziale meccanico tutte le ruote sono sempre in trazione ovviamente può essere spostata diciamo così dall'automobile in caso di necessità ma è sempre un 4x4 permanente a differenza di tutte le A4 all road che sono arrivate nella serie dopo la serie B9 restyling questa è una B9 MK1 la trazione 4 ultra è una buona trazione perché vi consente di avere consumi migliori di questi perché quest'auto non è un'automobile troppo parsimoniosa adesso lo vedremo la trazione 4 ultra probabilmente è una trazione più affidabile e che si degrada meno del tempo gran parte degli organi meccanici che la costituiscono non sono sempre in funzione questa è un'automobile che a livello di efficacia il livello di trazione per l'efficacia è una bomba però beve un po' di più della 4 ultra e potrebbe degradarsi nel tempo più velocemente poi ecco per quello che riguarda la qualità di marcia è un'ottimo automobile è pensata per la morbidezza, per la comodità non si fa guida sportiva qui a bordo è un'automobile pensata per fare viaggi la guida, la posizione di guida è parecchio rialzata ottime le superfici vetrate a livello di visibilità nulla da dire nemmeno su quello che è il motore equilibrio giusto di cavalli e di potenza elastico riprende da un basso numero di giri con questo cambio doppia frizione si comporta davvero davvero bene dopo tutti questi chilometri comunque si sente sempre pochissimo perché l'automobile è ben insonorizzata vibrazioni pari a zero tanta coppia in basso sempre in grado di tirarvi fuori dalle situazioni di impiccio non è un motore che ama allungare ma come vi ho detto è un motore che ama girare nella zona bassa e nella zona media del contagiri secondo me la scelta ideale da fare su questa A4 Allroad costi di mantenimento contenuti affidabilità molto alta è un motore che potrebbe essere in grado di fare altri almeno 375.000 km consumi prezzi e difetti particolari ragazzi come abbiamo già visto anche in altri video registrati a bordo di Audi i consumi di questa automobile non sono male ma se confrontati con i diesel Mercedes e BMW questo diesel di Audi non è un campione di efficienza vi do il consumo medio del proprietario che ha azzerato la memoria a lungo termine 13.800 km fa facendo 254 ore di guida il medio qui è 17 km al litro io in questi pochi giorni di utilizzo dove ho fatto anche montagna ho totalizzato un consumo medio di 15 km al litro si è abbassato ulteriormente ricordiamoci che l'automobile comunque pesa 1700 kg a secco e ha una trazione integrale permanente sempre attiva in più c'è il cambio automatico che come vi ho detto è l'unica alternativa che potevate acquistare su questo 190 cavalli fortunatamente perché è perfetto per questo tipo di automobile fate le vostre considerazioni questa è un'automobile che nel 2016 aveva un prezzo di partenza di 48.400 euro parlando ovviamente di questo 2.000 da 190 cavalli mentre eravamo poco oltre i 51.000 per il 3.000 diesel ad oggi le quotazioni ci sono quasi dimezzate mantiene comunque bene il valore dell'usato perché è un Audi perché è una Premium perché è tendenzialmente un'automobile affidabile e perché è un'automobile ancora recente perché il modello non è mai stato stravolto né dentro né fuori fate un giro sui vari motori di ricerca e andate a spulciarvele perché secondo me questa è un acquisto davvero strategico è un saggio acquisto perché come vi ho detto è un'automobile completa a 360 gradi ancora ad oggi parlando di difetti particolari ragazzi non posso citare i difetti di un'automobile con 370.000 km che ha fatto tutto questo lavoro ed è stata tenuta così sicuramente come vi ho detto i sedili se dovete comprare un Audi A4 Allroad non comprateli in pelle come motorizzazione lascerei perdere il 163 cavalli e comprerei questo 190 cavalli che è la via di mezzo giusta i 6 cilindri su quest'auto non sono necessari risparmiateveli per la A6 Allroad sicuramente un plauso agli interni che si sono mantenuti così bene nonostante l'auto sia utilizzata per lavorare in maniera come vi ho detto parecchio brutale parecchio intensiva l'elettronica di bordo ai tempi era una buona elettronica di bordo quindi non mi va di criticarla ragazzi faccio davvero fatica a trovare qualcosa che sia da considerare un difetto soprattutto ad oggi che l'automobile è un'automobile già di 8 anni fa e si è conservata parecchio bene sicuramente dovrei fare più l'elenco delle cose positive piuttosto che di quelle negative ragazzi io penso di avervi detto tutto su questa A4 Allroad super chilometrata arriveranno altri usati sul canale quindi non dimenticatevi di iscrivermi e di darmi il vostro supporto fatemi sapere quanti chilometri voi avete percorso con le vostre Audi A4 con le vostre Audi A6 con le vostre automobili daily e soprattutto fatemi sapere se siete soliti rottamare le vostre auto semi nuove a 100.000 km o le portate solitamente fino alla morte ditemelo qua sotto noi ci vediamo nel prossimo video nel prossimo test drive nella prossima prova su strada ciao ragazzi